Il Beato Lodovico Pavoni nacque a Brescia, Italia, l'11 settembre 1784. Ricevette l'ordinazione sacerdotale nel 1807. Si distinse per una straordinaria dedizione ai giovani poveri e abbandonati, a favore dei quali fondò l'Istituto San Barnaba e la Congregazione dei Figli di Maria Immacolata. Mentre si prodigava per proteggere i suoi ragazzi da saccheggi e violenze nel contesto delle Dieci Giornate di Brescia, padre Lodovico contrasse una broncopolmonite che lo condusse alla morte il 1 aprile 1849. Lunedì 28 novembre nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia è stato consegnato il grosso d'oro al Superiore Generale della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata. L'evento si è inserito come manifestazione cittadina per onorare la canonizzazione di Lodovico Pavoni, illustre bresciano, avvenuta il 16 ottobre scorso a Roma da parte di Papa Francesco. Credo che sia molto importante per la città di Brescia e soprattutto anche per noi pavoniani, ma credo che sia un riconoscimento, una riconoscenza al lavoro che la famiglia pavoniana fa qui nella città per migliorare anche la città e credo che il carisma pavoniano può contribuire molto alla formazione della gioventù, del mondo d'oggi e perché siano buoni cittadini e buoni cristiani. E allora noi ringraziamo per questo riconoscimento, ma chiedo anche o chiediamo di continuare a lavorare per questa città col cuore del Pavoni. Il sindaco Emilio Del Bono ha consegnato a padre Riccardo Pinilla Colantes il massimo riconoscimento della città di Brescia. È un segno molto forte perché si tratta di un sacerdote dalle caratteristiche molto bresciane, vorrei dire, nel senso che è un grande lavoratore, un uomo che ha messo nell'avviamento al lavoro, in questa laboriosità dei bresciani, il carisma più importante. Un uomo che ha dato la vita perché è intrecciato con la storia bresciana in maniera quasi sorprendente. muore durante le dieci giornate di Brescia per mettere in salvo i propri ragazzi, cioè anche questo ha un valore eroico incredibile e poi la continuità, la continuità di coloro che hanno voluto seguire la sua scelta di vita e che continuano a seminare anche nel nostro territorio del bene e fanno crescere la nostra comunità. Quindi sono tante le motivazioni, tante le ragioni e queste ragioni dovevano avere una traccia. La traccia è questa intestazione e il segno di un grosso d'oro che è la maggiore benemerenza che noi diamo, il grosso che simboleggia la moneta del libero Comune di Brescia, di uomini liberi, di uomini anche capaci però di far crescere l'intera città, l'intera comunità. La cerimonia si è aperta con la scoperta di una targa che dedica anche a Lodovico Pavoni, l'auditorium San Barnaba, luogo in cui il santo svolse il suo apostolato educativo e sociale. L'incidenza che San Lodovico Pavoni ha avuto nella città e nella provincia di Brescia non è soltanto a livello ecclesiale ma ha avuto una forte incidenza sociale e da questo punto di vista quindi credo che sia un riconoscimento doveroso, condivisibile e opportuno. Nel Salone Vambitelliano, dopo i saluti istituzionali, Massimo Tedeschi ha presentato il libro del vaticanista Aldo Maria Valli, dedicato a San Lodovico Pavoni, l'inventiva dell'amore. Grazie a tutti.